musica 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 BASTA BASTA Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sono FabiJ e oggi siamo tornati su Yandere Simulator allora ragazzi ho fatto il new game perché hanno aggiunto un bordello di cose dall'ultima volta che ci ho giocato noto con piacere che hanno fatto un miglioramento anche al caricamento che è fatto veramente figo adesso vabbè ragazzi hanno aggiunto un sacco di posso lasciare le note? questa è una lettera che lascia a me senpai I want to speak with you about large ma cazzo volevo scrivere large penis essere incinta school rooftop spero che sarai lì finish ma è una cosa per senpai questa ma lì finisce senpai stai andando nella cosa giusta ma non è quello di senpai ma allora cosa me ne fotte? chi è che ha trovato la lettera scusami io pensavo di averla lasciata senpai ma cosa me ne fotte degli altri scusa che è questa che è rimasta qui? perchè non sei andata in classe? qual è il problema? ciao zia posso parlarti per un momento? secondo me ti piace il colore verde non ne sono sicurissimo eh vabbè ma la madonna non volevo essere così cattivo non pensavo facesse così subito va bene sono sporco di sangue ma tutto ok tranquilli ho le mie cose quindi è normale vorrei solo dire che quel copico non si fa così e che tu sei brutto la vendetta la vendetta la vendetta di Gesù è satana che si muove porca vacca oh la madonna questi stanno facendo tutti i compiti in classe ma cazzo ma copiate non ce la prof? non mi hanno visto non mi hanno visto non mi hanno visto ops non l'ha visto senpai c'era senpai no ma perchè? non è come sembra è che quando le mie cose sono non uso i tappax vabbè sti cazzo è l'unico gioco della vita dove tenti di entrare in pausa ma ti esce un toast in bocca fantastico un mini senpai delle ali del demonio quanta roba hanno aggiunto che cosa micchia è? un alpaca vabbè dai basta che cazzo fa questo? ah già che svircia svircia sicuramente non ti sta vedendo guarda sicuramente non mi sta notando per niente ciao zia sei tu che è il destinatario della lettera se sei tu ci ho avuto un culo incredibile oh sei tu you've got it all wrong non capisco l'inglese sono tutto shish sono una perchè sono in una bacinella di piscio mi fate capire un attimo perchè stavo parlando con una tettona a cui mi piacevole però non capisco cosa state dicendo porca vacca che cosa brutto ho visto vabbè sti gazzi hanno aggiunto una piscina ma io non ci sono ancora andato che problemi ho? cioè qual è il problema? perchè in italia non abbiamo le scuole con la piscina? mo tutti nei commenti mi scrivete ah la mia scuola c'era la piscina la mia scuola era già tanto se era una scuola era già tanto se aveva le classi era tanto era doveva ringraziare il gesù cristo che avesse le classi permesso ma che figata dimmi che posso fare i tuffi ti prego no aspetta ma quindi posso affogare la gente? lo scettro di sailor moon beh come visibilmente armata spiegami come potrebbe essere un'arma lo scettro di sailor moon BAM minchia non so se qualcuno è mai morto è la magia di sailor moon sailor moon amica sailor moon perchè visto che c'è il retro della scuola e c'è la piscina almeno mettiamolo lì che così non lasciamo impronte in giro no? arca vacca non c'è sport più completo di essere lo yandere eh ragazzi altro che il muoto le mamme che dicono è il muoto lo sport completo non è vero lo yandere lo spavala lì quanta forza fisica ci vuole sono venuto fin qua solo per quello almeno fallo ti prego a cagare va vabbè stai sotto gli strike va bene così penseranno che stai però non ti emozionare troppo devi farlo così che cazzo vuoi? a lesbica quello è sangue ecco ma basta hanno smesso hanno avuto sospetti per un attimo poi basta e poi parlano a caso quello è un morto ma sai che ieri mia zia c'è il laboratorio di computer ma invece di giocare ad osu e farti le seghe non è che potresti fare no è per curiosità voglio capire com'è cioè non cos'è? cassette misteriose che cazzo è 13 ma che cazzo ma 50 kg di peso ma siamo sicuri? eh ma vabbè che cos'è? eh vabbè mi the rock zia c'è un problema non so questo ho fatto malissimo vabbè ragazzi siamo qua per non per gingillare ma per far fuori delle persone quindi zitti che devo concentrarmi porca troia l'ho mancato power gasolina ah è gas questa è benzina io vi do fuoco è una oh ortacci mia però potevano farla la fisica dell'acqua in sto gioco dalle fuoco come si fa a dare fuoco alla gente? ecco mi manca sto passaggio raga come faccio a dare fuoco alla gente? quindi attenzio ed è il momento giusto per il torne puttana di tua madre ma stai zitto mi ha fatto cagare addosso ciao zia potresti apparire di notte forte forte al tizio che si da delle arie lì comunque io non ho ancora visto cosa c'è qui dentro perché c'è un'ascia c'è un'ascia della madonna ma non ho ben capito ma perché posso sfondarlo con l'ascia? anche se le chiavi le chiavi come le hai fatto le chiavi? come le hai fatto? steal the shed key si vabbè non ce la farò mai raga ce l'ho fatta no ce l'ho fatta o no? ce l'ho fatta ce l'ho fatta no in realtà sono ancora lì ma credo di avercele io in realtà è semplicemente che la tizia ce l'ha proprio disegnate sul culo cioè col computer quindi e infatti ce l'ha disegnate proprio come il personaggio va bene rat poison c'è qua dentro la sega che quella la trovavo anche senza aprire le porte ve lo dico io in conclusione ragazzi direi di andare a salutare il mio vecchio amico così concludiamo in bellezza ciao zio in teoria io dovrei vincerla questa però ma se hai un'ascia gigante qual c'è il tuo problema? vabbè ragazzi basta questo gioco diventa sempre più tragico ogni volta che lo gioco spero che il video vi sia piaciuto spero che abbiate imparato come essere yand anzi come non essere una yandere commento se mi piace anche ai vari social che cominciano nella descrizione se non sono restiti iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao 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 ciao